Fratelli e sorelle, non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà e con la potestà di Cristo servire l'uomo e l'umanità intera. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Alleluia, alleluia! Jesus Christ, you are my Lord, you are my Lord, alleluia! Vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Oggi siete qui convenuti, siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione, difenderete la pace pagando anche di persone se necessario. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analgabeti, mancano di lavoro. Voi difenderete la vita in ogni momento dal suo sviluppo terreno. vi sforzerete con ogni vostra energia di rendere questa terra sempre più abitabile per tutti. Cari giovani del secolo che inizia, dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile idone. Alleluia, alleluia! Jesus Christi, you are my Lord, you are my Lord, alleluia!